Lewisville, Kentucky, spesso detta la città del sud più a nord o la città del nord più a sud degli Stati Uniti. Muhammad Ali nasce qui nel gennaio del 1942. Oggi è il figlio prediletto di Lewisville, ma è cresciuto in una città che applicava le leggi di Jim Crow sulla segregazione raziale. I suoi genitori, Cassius e Odessa, lo chiamano Cassius Marcellus Clay Junior. Vivono tutti in una casa di legno al 3302 di Grand Avenue, che è sempre lì, come pure Lawrence Montgomery, un vicino dei Clay. Ricorda che il ragazzino che viveva alla porta accanto aveva qualcosa di speciale già da allora. Io durante la notte lavoravo all'ufficio postale. Lui voleva sempre che io tenessi sulle mani così da potersi allenare. Voleva farlo sempre, ogni giorno. Poi voleva correre per arrivare a scuola. Correva dietro l'autobus. Non voleva prenderlo, ma solo corregli dietro. Mi disse che voleva diventare un campione dei pesi massimi e non ci sono dubbi che ce l'abbia fatta. Il futuro campione è solito allenarsi sotto questo albero di cedro e inizia a boxare perché vuole essere pronto qualora si imbattesse nel ladro che ha rubato la sua bici. Dacconta questa storia ai giornalisti a Roma, dopo aver vinto la medaglia d'oro per i pesi medio-massimi. La mia bici venne rubata e mio cugino, che era un pugile, anche se non aveva mai avuto successo, mi disse che mi avrebbe allenato e che se mai avessi incontrato il tizio che aveva rubato la mia bici avrei saputo come combatterlo, come difendermi. Mi portò in palestra, ma in realtà lui interruppe poco dopo, mentre io continuai. Hai preso l'uomo che ti ha rubato la bici? No, mai.